ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillo cicoso canale oggi video fuori programma un video per mostrarvi il contenuto delle scatoline che vedete qui davanti in effetti e si tratta di un altro video un altro video acquisti anche se diversi dai soliti nel senso che qui dentro sono contenute due creazioni che ho acquistato sono due creazioni in tessitura di perline si avete capito bene esattamente come quelle che posso fare anch'io le vedevo da diverse settimane queste creazioni da quando sono state pubblicate esattamente intorno a san valentino quindi nemmeno più di tanto una settimana fa una settimana dieci giorni e me ne sono veramente innamorata da subito e quindi insomma mi continuavano ad aprire davanti per così come erano state presentate create l'abbinamento di colori c'è per cosa mi hanno trasmesso queste creazioni ho dovuto farle mie già realizzate perché sapevo che comunque anche se avessi provato a rifarmeli per me non avrebbero non sarei sicuramente riuscita ad ottenere l'effetto che mi hanno trasmesso questi già realizzati ho acquistato da una bravissima creativa da nicoletta barbera over the rainbow è la sua pagina dove troverete oltre a tante bellissime creazioni anche i suoi meravigliosi schemi che trovate in vendita nel suo negozio etsy e dopo li lascerò mi lascerò qui sotto nel box informazioni tutti i link e quindi ora passo a mostrarvi le meraviglie guardate le meraviglie già dalla da come si presentano appunto nella confezione veramente curata in ogni dettaglio tutto handmade partiamo non so da quale partire perché non ce n'è una più bella sono entrambe meravigliose partiamo per dimensioni dalla più piccolina e ora sfiliamo insieme e guardate che meraviglia guardate che belli questi cuori sono veramente spettacolari cioè io li ho dorati veramente da subito e sì volevo farmeli però effettivamente ho preferito in questo caso come dicevo prima acquistare così come erano come le avevo visti per quello che mi avevano appunto trasmesso cioè sono veramente meravigliosi fatti benissimo poi avere fra le mani comunque una creazione di un'altra creativa a me comunque trasmette sempre qualcosa di bello sapere che comunque un'altra persona come me mette tanto amore nel creare le sue creazioni e veramente nicoletta qua si vede come ti ho già detto nel messaggio quando mi è arrivato il pacchettino si vede proprio l'amore che metti sul quale proprio non avevo non avevo dubbi ma averlo fra le mani una creazione parla ancora di più della persona che le realizza guardate quanto sono belli e luminosi questi cuori non vedo l'ora veramente di utilizzarli ultimamente tra l'altro sto andando veramente in fissa con il colore rosa e quindi forse anche per quello che per me non ho mai realizzato niente in questi toni che per quello mi hanno colpito così tanto insomma mi hanno trasmesso qualcosa di unico e ora passo a farvi vedere gli altri mettiamoli bene se restano in vista magari no eccoci qua fate lì e ora apriamo questi altri che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta quando quando ho aperto la confezione perché erano già belle in fotografia erano già belle anche in un video veloce che aveva mostrato nicoletta però guardate cosa sono davvero questi orecchini guardate quante sono belli sono questi sono i suoi orecchini venus e sono veramente un incanto cioè lavorati benissimo con il cuore che che pende sono importanti ma stanno veramente divinamente indossati con tutti i bicono questi rosa opa la b veramente meravigliosi o non so se riesco a farvi capire quanto quanto sono belli dalla fotocamera perché io comunque le avevo viste in video le avevo viste in foto ma vederli dal vivo sono ancora più belli ve lo garantisco proprio e quindi non vedo l'ora di sfoggiarli non ho l'imbarazzo della scelta sul quale farebbe il primo ma penso che partirò da questi anche se è veramente molto dura la gara da scegliere sono entrambi io adoro i cuori poi lo sapete quindi mi sono orientata proprio sul genere che amo di più come forma io ringrazio ancora tanto nicoletta che è stata molto disponibile è stata velocissima ho acquistato lunedì e oggi mercoledì ho già ho già gli orecchini fra le mani quindi veramente grazie nicoletta visitate la sua pagina e vedete quanti e quante meraviglie sforna quotidianamente come schemi e come creazioni ciao a tutti e alla prossima ciao